Musica Nuovo DPCM Natale, fra le ipotesi coprifuoco alle 22, anticipo delle messe nelle festività e divento di spostamento tra regioni, nuovo confronto Stato-Regioni. Tarre revoca l'ordinanza della chiusura scuole per l'assessore regionale all'istruzione, Roberto Lagalla, serve una maggiore collaborazione istituzionale. A Palermo, Ottavio Zacco, consigliere comunale, ha evidenziato le grandi criticità che stanno attraversando tantissime famiglie positive a Covid, come ritardi nei tamponi e smaltimento della spazzatura. Si sono svolte questa mattina i funerali di Marta Episcopo, la bambina di appena 10 anni, morta lo scorso mercoledì alla scuola media Vittorio Emanuele Orlando. Serie C continua la scalata in classifica dei Rosanero, il Palermo ha battuto 3-0 il Monopoli e conquistato il quarto successo nelle ultime cinque partite. Ben trovati alla seconda edizione di Media News di lunedì 30 novembre, come avete ascoltato nei titoli, in attesa del nuovo DPCM natalizio. Tra le ipotesi coprifuoco alle 22, anticipo delle messe nelle festività e di vieto di spostamento tra regioni. Oggi nuovo confronto, Stato-Regioni. Vediamo. Oggi nuovo confronto, Stato-Regioni sulle norme per il Natale che entreranno in vigore venerdì prossimo e fin dopo il Capodanno. Per consentire il ricongiungimento dei siciliani che vivono e lavorano fuori dall'isola, la regione pensa ad un via libera al ritorno ma con tampone, al massimo 72 ore prima del viaggio per mostrarla all'arrivo oppure sottoponendosi al tampone in aeroporto all'arrivo. Ma da Roma l'ipotesi palermitana non piace e si pensa a consentire i viaggi fra le regioni del medesimo colore, quindi solo tra le regioni gialle e solo fino al 18 dicembre, per poi chiudere tutto fin dopo Capodanno o forse fin dopo l'Epifania. La prudenza servirà per tutelare noi nostri cari, ha detto il Ministro della Salute Roberto Speranza, ma è anche una forma di rispetto per i medici, infermieri e operatori sanitari che rischiano la vita per curarci. Per quello che riguarda anche il numero di persone da ospitare, già oggi c'è una forte raccomandazione del Governo a non portare persone in casa che non siano conviventi ed è già vigente. Il messaggio è molto chiaro, spostarsi solo se necessario, stare a casa e ridurre il più possibile il numero dei contatti fra persone. Sul tavolo del Governo sono dunque tante le ipotesi che potrebbero trasformarsi in regole effettive, dalla conferma del coprifuoco fino alle 22 con l'anticipo delle messe di Natale da concordare con la conferenza episcopale, ai negozi aperti fino alle 21, dai bar e locali chiusi alle 18, compresi i ristoranti che terranno le alzare cinesche abbassate anche per tutte le giornate di Natale e Santo Stefano, fino alla chiusura degli impianti sciistici. Altro tema che fa discutere è quello della scuola. L'orientamento prevalente del Governo sarebbe quello di far rientrare tutti i liceali in classe dal 7 gennaio, passate quindi le feste, ma c'è chi insiste, in particolare il Movimento 5 Stelle Italia e Viva, per una riduzione graduale della didattica a distanza per gli studenti e le superiori. Già da dicembre, forse da giorno 14. La Sicilia passa da zona arancione a zona gialla, diminuiscono le restrizioni, ma l'infettivologo palermitano Antonio Cascio invita ancora a mantenere alta l'attenzione. La Sicilia è entrata in zona gialla, questa è una bellissima notizia, però dobbiamo stare molto attenti, non è molto diversa la zona gialla da quella arancione e quindi le persone non devono pensare che il pericolo è finito ed è un liberi tutti. Al contrario, dobbiamo cercare di riuscire a mantenere questa zona gialla o addirittura passare in una zona verde. Insomma, quindi ogni giorno continuano a esserci tanti nuovi casi, questi sono in riduzione, ma questo non significa che i casi sono scomparsi. Le persone che si ricoverano in ospedale col Covid continuano a esserci, anche se fortunatamente sono di meno. Le persone in terapia intensiva continuano a esserci, ma soprattutto, ancora peggio, le persone continuano a morire con il Covid o per il Covid. Le persone che non sarebbero morte, altrimenti, muoiono ogni giorno con o per il Covid e ne muoiono circa per adesso una quarantina al giorno. E questo numero, purtroppo, continuerà a mantenersi tale, speriamo per poco, ma io, insomma, per ancora una settimana vedremo questi numeri. Allora, le cose sono sicuramente molto migliori rispetto a quanto non lo fossero 20 giorni fa, quando sono cominciate le restrizioni più serrate. E quindi ora noi stiamo fortunatamente osservando una riduzione dei casi grazie alle restrizioni che abbiamo intrapreso. Ma se non continuiamo a stare tutti molto attenti, le curve ricominceranno a risalire. E dopo che le curve cominciano a risalire, vedremo risalire, appunto, tutte le curve risaliranno, anche quelle, purtroppo, delle persone in terapia intensiva, e anche quelle dei morti. E allora, dobbiamo tutti continuare a stare molto, molto attenti, continuare a indossare la mascherina, soprattutto se ci troviamo insieme ad altre persone, ma indossarla anche bene, correttamente, coprendo il naso. Ricordiamoci di lavarci spesso le mani e quando possiamo cerchiamo di mantenere sempre le distanze interpersonali. Poco cambia fra zona gialla e zona arancione. Io non vedo grandi pericoli nel frequentare un ristorante, se siamo seduti e serviti al tavolo, e se non siamo troppi al tavolo, appunto, i posti sono distanziati fra loro. E' chiaro, evitiamo di andare al ristorante con sconosciuti. Ora si avvicinano le festività natalizie. E' bello, ovviamente, incontrarsi con i propri cari, con i propri familiari, che magari non si vedono da tanto tempo, ma l'attenzione deve essere alta, perché magari avremo persone, insomma, ci saranno ricongiungimenti familiari, proprio nel periodo natalizio, e allora l'attenzione deve essere veramente alta. Quindi, ovve possibile, cerchiamo anche nell'ambito familiare di evitare baci e abbracci. Io, ripeto, tante volte l'ho detto a una mamma anziana, che nonostante io lavori con i pazienti Covid, la vado a trovare settimanalmente, e la vedo a distanza di due metri, due metri e mezzo, indossando la mascherina. E allora, continuiamo a stare tutti, tutti, molto attenti. Questo è il messaggio più importante che dobbiamo dare. Il Tarre revoca l'ordinanza della chiusura a scuole per l'assessore regionale all'istruzione, Roberto Lagalla. Serve una maggiore collaborazione istituzionale. In merito alla sospensiva da parte del Tar di Catania dell'ordinanza di chiusura delle scuole primarie e secondarie di primo grado disposta al sindaco di Paternò al fine di contenere i contagi da Covid-19, l'assessore regionale all'istruzione, Roberto Lagalla, ribadisce la validità della circolare interassessoriale firmata congiuntamente con l'assessore regionale alla sanità, secondo la quale, nel rispetto del DPCM vigente, i sindaci sono chiamati a subordinare eventuali provvedimenti di chiusura al preventivo parere tecnico-sanitario del competente Dipartimento di Prevenzione dell'ASP. Dove dovesse mancare da parte dell'ASP competente l'accertamento del dato epidemiologico che motiva l'interruzione delle attività scolastiche per comprovate situazioni di rischio sanitario, ogni sindaco potrà trovarsi di fronte al rischio di impugnative che, se accolte, come nel caso di Paternò, tendono a generare ulteriori incertezze e generale disorientamento. Si vuole ribadire che di per sé l'ambiente scolastico non è generatore di contagio e su tale documentata premessa la Regione ha ritenuto di sollecitare già da tempo una più attenta collaborazione fra le competenti istituzioni territoriali onde evitare comportamenti non coerenti con l'oggettività dei rilievi statistici ed epidemiologici. Ogni provvedimento assunto in sede locale senza il conforto dell'autorità sanitaria rischia quindi di risultare carente di motivazione giuridica oltre a privare gli studenti del fondamentale diritto allo studio. Mi riferisco, sottolinea la Galla, alle grevi ricadute e le interruzioni didattiche sul processo formativo degli studenti e in particolare sui soggetti socialmente o economicamente più fragili che attraverso la DAD spesso divengono oggetto di isolamento ed esclusione dall'erogazione della didattica. Le decisioni assunte dal Governo nazionale circa la prosecuzione delle attività scolastiche in presenza per gli alunni e le scuole elementari e medie confermate alla Regione siciliana trovano fondamento proprio in tali esigenze e mirano alla tutela del percorso formativo di ogni singolo discente pur sempre nel rispetto delle più attente norme di sicurezza per il contenimento del contagio da Covid-19 che non escludono mirati e motivati provvedimenti locali in presenza di documentato allarme epidemiologico. A Palermo il consigliere comunale Ottavio Zacco ha evidenziato le grandi criticità che stanno attraversando tantissime famiglie positive a Covid ritardi nei tamponi e smaltimento della spazzatura sono alcuni dei disservizi che Zacco ha denunciato. Ci sono migliaia di famiglie nella nostra città che sono prigionieri in casa che non hanno assistenza non possono uscire non c'è nessuno che gli porta gli alimenti hanno difficoltà a svolgere quello che è la normale routine anche a buttare l'immondizia c'è un caso particolare che veramente ancora non ho risolto e che mi sta molto a cuore che riguarda una famiglia che ha alcuni minori che essendo in quarantena perché hanno un familiare positivo hanno avuto difficoltà con la caldaia che si è devastata ma nessuna ditta vuole intervenire perché sono positivi e quindi questa famiglia attualmente è a casa con una bambina piccola di 3 anni con l'acqua fredda quindi veramente sono prigionieri a tutti gli effetti hanno negato il diritto alla vita quotidiana ma in questo caso è inutile nasconderci dietro un dito ci sono delle responsabilità a chi sono da debitare? Allora in teoria l'ASP dovrebbe fare da coordinamento comunicare al comune tutte le famiglie in quarantena affinché il comune l'emergenza sociale che devo dire che è un settore che funziona e man mano che mandiamo le segnalazioni da immediato riscontro poi attraverso la Croce Rossa o altre associazioni si attiva per portare gli alimenti o i farmaci in queste famiglie a queste famiglie che sono a casa altra procedura invece è quella dello smaltimento dei rifiuti ASP ha un appalto con una ditta privata e quindi ASP direttamente dovrebbe comunicare a questa ditta quale sono le famiglie in modo da smaltire i rifiuti però mi sembra che ASP abbia perso un po' il controllo perché sono in tantissimi e risulta anche a noi ad attendere l'esito del secondo tampone quello che di fatto li dovrebbe liberare assolutamente sì tra l'altro molte famiglie non ricevono nemmeno la notifica con l'obbligo della quarantena e altre invece la liberatoria che permetterebbe chi non è più positivo di poter rientrare al lavoro e ci sono persone da 60 giorni pur essendo negativi non possono rientrare in ufficio al lavoro perché non hanno la liberatoria dell'ASP Lei che ha il polso della situazione se dovessimo parlare di numeri grosso modo che idea abbiamo per quante famiglie io leggevo i dati aggiornati a qualche giorno fa sulla città di Palermo solo Palermo ha superato gli 8 mila positivi quindi di conseguenza potete capire a che livello siamo io ricevo tantissime telefonate da diverse persone che conosco ma anche tramite i social mi contattano famiglie che non conosco che hanno proprio difficoltà e chiedono aiuto sono veramente disperati e immagino è come io ricevono queste telefonate anche altri consiglieri perché l'ASP continuano a dire che l'ASP non risponde i numeri verdi non rispondono all'email non rispondono quindi sono veramente persone disperate e allora su questo suo appello immagino che tra l'altro lei darà seguito anche a una formalizzazione istituzionale di una richiesta specifica all'ASP la salutiamo la ringraziamo sono proseguiti a Palermo durante il fine settimana i controlli per l'ottemperanza delle prescrizioni rivolte al contrasto della pandemia da Covid-19 eclatante il caso di un locale aperto nel centro storico dopo le 22 nel quale era in corso una serata danzante prosegue la collaborazione tra le forze di polizia finalizzata al controllo del rispetto delle misure di contenimento al Covid-19 nei contesti della Movida gli agenti di polizia municipale unitamente agli agenti della Questura e ai militari della Guardia di Finanza hanno effettuato un controllo ispettivo in via Pannieri piazza Caracciolo a Palermo dove nell'atto del sopralluogo dopo le 22 era in corso una serata danzante con somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche il locale era aperto al pubblico e dal controllo dei documenti è emerso che era sprovvisto della prescritta scia per la somministrazione di alimenti e bevande e della registrazione sanitaria si è proceduto pertanto a comunicare notizia di reato per attività di discoteca abusiva 8 avventori sono stati sanzionati per non aver ottemperato al divieto di circolazione dalle 22 alle 5 con verbale di 400 euro e per il mancato utilizzo insieme al titolare del locale dei dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie con un altro verbale di 400 euro ciascuno le sanzioni ammontano a 15.200 euro inoltre le fiamme gialle procederanno agli approfondimenti di natura fiscale avendo constatato che l'attività risulta completamente sconosciuta al fisco gli agenti della polizia municipale hanno controllato altri due locali un market in piazzetta della Messinese e uno in via Roma che dopo le 22 erano aperti al pubblico e all'interno erano in corso attività di somministrazione di alimenti e bevande al banco sebbene vietata dal DPCM del 30-11-2020 i gestori sono stati sanzionati per inottemperanza della sospensione delle attività dei servizi di ristorazione con verbali di 400 euro e i locali posti sotto sequestro cautelare amministrativo di 5 giorni entrambi i market erano privi della prescritta scia e in quello di via Roma l'attività di vendita era stata ampliata senza la prescritta autorizzazione per di più entrambi i titolari e i due eventori non hanno ottemperato all'obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e sono stati elevati nei loro confronti verbali di 400 euro ciascuno cambiamo argomento passiamo alla cronaca alla triste storia della bambina morta a scuola si sono svolti questa mattina i funerali di Marta Episcopo la bambina di appena 10 anni morta lo scorso mercoledì alla scuola Vittoria Emanuele Orlando secondo l'autopsia il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali l'ultimo saluto oggi alla piccola Marta Episcopo la bambina palermitana di appena 10 anni morta mercoledì scorso durante l'ora di educazione fisica all'interno della palestra della scuola media Vittoria Emanuele Orlando di Via Lussemburgo a Palermo il corpo della piccola è tornato a casa dei genitori venerdì dopo l'autopsia secondo i medici dell'istituto di medicina legale del policlinico la morte della piccola lunna è stata dovuta a cause naturali nessun segno di violenza il malore fatale non è stato causato dalla caduta mentre correva con i compagni l'esame avrebbe evidenziato alcuni indicatori negli organi interni che farebbero propendere per una patologia un male che fino a mercoledì non si era mai evidenziato l'autopsia è stata eseguita dalla professoressa Antonietta Argo la causa della morte dovrà essere confermata dagli esami istologici su tutti gli organi della ragazzina la relazione finale arriverà soltanto fra qualche mese qualche giorno fa il saluto dei compagni di scuola della bambina e di altre scuole di Palermo che hanno fatto volare verso il cielo parecchi palloncini bianchi ad Elio rientriamo in studio con il maltempo si fa la conta dei danni in Sicilia dopo il maltempo che ha colpito Catania Palermo e Ragusano più gravi danni nella periferia del capoluogo Etneo a causa di una tromba d'aria sui luoghi colpiti si è recato il presidente della regione siciliana Nello Musumeci che ha annunciato la proclamazione dello stato di calamità vediamo dobbiamo intatto procedere alla verifica e alla ricognizione dei danni sono danni a civili abitazioni danni ad aziende e danni a infrastrutture questo è un compito che svolgerà la protezione civile regionale in collaborazione con quella del comune di Catania e con i vicini del fuoco subito dopo procederemo ad una verifica degli interventi immediati da eseguire soprattutto nelle abitazioni per evitare disagi ai cittadini una stima dei danni molto molto approssimativa almeno nella fase iniziale e intanto la giunta di governo adotta la delibera per richiedere lo stato di emergenza dopo avere dichiarato lo stato di calamità stiamo verificando anche a Palermo e a Ragusa l'entità dei danni causati dal maltempo a Catania accentuati i danni dalla tromba d'aria come sapete che si è accompagnata ad una abbondante quantità d'acqua e a 20 a volte con raffiche particolarmente forti quindi è un momento difficile dobbiamo conviverci con questo cambiamento climatico ed è per questo che mai come in questo momento la protezione civile ovunque in Sicilia a livello regionale provinciale e comunale diventa il primo obiettivo al quale deve guardare l'amministrazione pubblica per rafforzare le strutture in termini di risorse umane e in termini di mezzi e di risorse strumentali cambiamo a Lampedusa e Linosa Totò Martello ha dichiarato ho denunciato più volte le imbarcazioni di migranti colpevolmente lasciate ammassate al molo favarolo dalle autorità competenti con il vento di libeccio sono diventate scheggio impazzite provocando gravi danni all'interno del porto alle altre barche ormeggiate e mettendo a rischio le persone che in quel momento si trovavano lì per mettere in sicurezza le loro imbarcazioni e i loro pescherecci a questo si aggiunge il danno ambientale con detriti di ogni tipo che hanno riempito le nostre acque i fondali e le nostre spiagge questa situazione è diventata inaccettabile sia chiaro aggiunge Martello adesso iniziamo a dire che è la colpa dei migranti in questo caso la colpa è di chi dovrebbe smaltire velocemente quelle imbarcazioni una volta giunte a Lampedusa ad iniziare dall'agenzia delle dogane che le prende in custodia quando vengono poste sotto sequestro dopo gli sbarchi anche nei mesi scorso ho sollevato più volte la questione e grazie al ministro all'interno era stato attivato un intervento straordinario di rimozione e smaltimento delle imbarcazioni ma poi gli sbarchi sono proseguiti la rimozione invece si è di nuovo fermata e il molo Favarolo si è trasformato ancora una volta in un ciumitero galleggiante di imbarcazioni non sono più disposto a assistere a questo scempio ambientale se le autorità competenti non intervengono immediatamente per rimettere in sicurezza l'aria portuale e per ripulire le nostre acque le spiagge ai fondali e se contestualmente non si attiva un meccanismo in grado di smaltire automaticamente e costantemente le imbarcazioni dei migranti una volta giunte sull'isola predisporrò un'ordinanza sindacale con la quale assumere direttamente in campo al comune gli interventi necessari per garantire la sicurezza dei cittadini e le infrastrutture del nostro mare al tempo stesso conclude Martello la nostra amministrazione comunale chiederà un risarcimento all'agenzia delle dogate e al ministero dell'ambiente per i danni indeterminati dal loro inaccettabile immobilismo dura la replica del segretario di Forza Italia Lampedusa Rosario Costanza che in calza affrontare la mareggiata avvenuta nei giorni scorsi al di là delle competenze aveva avvisato gli organi competenti che le barche che sono affondate a Molo Favarolo sono una piccola parte di quelle che si trovano in fondo dentro tutto il porto che impediscono le madover dei pescherecci e dei charter al di là delle responsabilità e delle competenze questo disastro ha dei responsabili la gestione del ministro all'interno della Dogana e del sindaco che è il primo responsabile del territorio lampedusano crisi del settore wedding in piena emergenza sanitaria nonostante tutto a Bagheria c'è chi non si arrenda e investe nel settore nella speranza che tutto torni alla normalità il nostro progetto è quello sicuramente di promuovere Bagheria al top per tutti anche gli sposi delle città di Mitrofe perché è davvero una città splendida la città delle ville che ci permette naturalmente di essere fiori all'occhiello la città di Tornatore e così via e quindi noi cerchiamo di offrire il massimo della nostra professionalità nel nostro piccolo per tutti gli sposi che seguono il nostro terriere i progetti per il futuro per tutti i nostri sposi è quello di cercare naturalmente sempre di offrire il Made in Italy cercare di essere uniti e superare questo periodo con tutti appunto i miei colleghi vogliamo dare sicuramente anche una speranza reale a tutti i futuri sposi quindi cercando di essere sempre qui presente per loro in primis cerchiamo di davvero offrire un po' tutto quello che è il Made in Italy per tutti i nostri sposi non vediamo l'ora naturalmente di potervi abbracciare ricordiamo sempre l'importanza in questo periodo dell'utilizzo delle mascherine ma questo finirà tutto e sarà tutto meraviglioso Serie C continua la scalata in classifica dei Rosanero il Palermo ha battuto 3 a 0 il Monoboli e conquistato il quarto successo nelle ultime cinque partite al Mici migliori in campo una vittoria convincente rotonda da squadra che inizia definitivamente ad applicare il credo tattico del suo tecnico Roberto Boscaglia il Palermo batte 3 a 0 il Monoboli e al Renzo Barbera conquista il quarto successo nelle ultime cinque partite continua la scalata in classifica dei Rosanero che grazie agli ultimi tre punti dedicati dall'intera squadra e dall'allenatore al ricordo della piccola Marta cancellano quella che era stata la caduta interna contro la Turris il Palermo ha messo la strada in discesa già nel primo tempo dopo aver corso un rischio enorme con una punizione in area non sfruttata dalla squadra di scienza i Rosa hanno sbloccato il risultato con Al Mici migliore in campo su calcio di rigore poco dopo splendido lo stacco di testa sugli sviluppi di un corner di Marconi prima della conclusione del secondo tempo Saraniti ha fatto tris realizzando il terzo gol personale in stagione soddisfatto alla fine del match il tecnico Roberto Boscaglia che avrebbe però voluto qualcosa di più dalla sua squadra nel corso del secondo tempo con un furore agonistico importante che mi piace e quando difendiamo difendiamo bene marcando spesso in avanti e quando capiamo che non possiamo farlo indietreggiamo di 20 metri e ci compattiamo devo dire la verità il secondo tempo non mi ha lasciato completamente soddisfatto anche se gli avversari non hanno costruito nulla però secondo me potevamo tenere ancora di più le redini del gioco e secondo me potevamo e dovevamo tenere più palla perché abbiamo corso tanto ma dietro a loro anche se ripeto quasi mai pericolosi invece oggi c'era l'opportunità per come loro ci hanno affrontati di poterli infilare più volte perché loro alzavano molto gli esterni marcavano in avanti e quando avevamo l'opportunità di andare fuori dal loro primo pressing noi potevamo essere molto pericolosi e adesso vediamo il punto sulla Serie C dopo la tredicesima giornata continua a vincere la capolista Ternana il tredicesimo turno del girone C di Serie C1 ha visto la capolista Ternana continuare a vincere seppur in affanno nell'anticipo di sabato 3 a 2 contro la Bibonese con il gol vittoria di vantaggiato al 92esimo tiene il passo il Bari di Auteri vincendo di misura in casa il match contro il Catanzaro grazie alla rete messa a segno al 57esimo dal solito Mirko Antenucci frena invece il Teramo che non va oltre il pari a Francavilla il Palermo supera agilmente senza soffrire il Monopoli per 3 a 0 per il Rosanero decidono il rigore trasformato dal Mici il colpo di testa di Marconi e il definitivo Trissi di Saraniti la scuola di Boscaia supera in classifica i Pugliesi ma non sorpasso il Catania che ha superato per 2 a 0 l'Avellino per gli Ettinei autogol di Miceli e rete di Pecorino Foggia Corsaro in casa della Viterbese 1 a 0 con la rete di Rocca al 65esimo serie di pareggi nelle altre gare 1 a 1 tra Bisceglie e Potenza e tra Juve Stabia e Paganese vince all'ultimo respiro la Casertana che supera di misura la Cavese anche per oggi è tutto vi ringrazio per averci seguito vi do appuntamento ai prossimi notiziari di Media News a Autore dei sovrapposti